Ciao ragazzi e benvenuti sul canale Il Ciclista Anonimo. Questo video sarà dedicato ad una squadra poco conosciuta ma che ha grandi ambizioni. Sto parlando della Tudor Procycling Team, ma prima vai con la sigla. Ma cos'è questa Tudor? La Tudor è una squadra professional svizzera. Come ben sapete le categorie nel ciclismo sono tre. Squadre World Tour a livello più alto, che sono le squadre che partecipano di diritto ai grandi giri, alle classiche monumento e a tutte le corse del calendario World Tour. Poi nel livello di mezzo ci sono le squadre professional che possono partecipare alle corse del calendario World Tour ma su invito da parte degli organizzatori e poi nel livello più basso ci sono le Continental che sono squadre che definire professionistiche è quasi una forzatura perché partecipano a corse di secondo piano dove spesso non c'è neanche la copertura televisiva in paesi improbabili. Ora la Tudor è una squadra professional quindi un livello intermedio come le squadre italiane, come la Eulo, come la Bardiani, come la Corratec. Nasce questa Tudor nel 2019 e all'epoca si chiamava Swiss Racing Academy. Poi nel 2022 il team è stato rilevato da Fabian Cancellara, la famosissima leggenda del ciclismo svizzero, rilevata quindi da Cancellara con il supporto di Tudor, dello sponsor Tudor. In realtà Cancellara non è il vero proprietario ma è una sorta di brand ambassador, di uomo immagine di questa squadra perché in Svizzera Fabian è una leggenda assoluta. Quindi dal 2022 la squadra cambia nome, diventa Tudor, prende il nome dal main sponsor. Inizialmente è una squadra composta quasi interamente da ciclisti svizzeri, spesso anche giovani, quindi per spingere il movimento ciclistico svizzero. Nel 2023 iniziano a vincere delle corse anche importanti, infatti hanno vinto la Milano Torino con De Klein, un velocista svizzero che quest'anno ha già vinto 6-7 corse. Cosa fa Tudor? Chi è questo sponsor Tudor? Tudor è un'azienda svizzera che produce orologi di lusso, quindi non uno sponsor di poco conto. Il progetto è serio perché hanno dichiarato di puntare a diventare una squadra World Tour all'inizio del 2026, quindi vogliono diventare una squadra World Tour al termine del triennio 2023-2025. E attenzione perché non si sono limitati ad una dichiarazione di intenti, quindi a lanciarsi in una dichiarazione pomposa come spesso vediamo purtroppo in Italia, faccio questo, faccio quello, faccio la squadra così, diventeremo World Tour, questo e quello, prendo quello e prendo quell'altro, poi fatti non se ne vedono. Attenzione perché questi svizzeri sono passati dalle parole ai fatti e lo hanno fatto con il ciclo mercato, il ciclo mercato in vista della prossima stagione. Hanno messo sotto contratto dei corridori davvero interessanti, dei corridori davvero importanti per un team professional e si tratta di Dainese, attenzione Alberto Dainese dalla DSM passa alla Tudor, Dainese è uno dei velocisti più forti italiani, uno dei velocisti più promettenti insieme a Jonathan Milan, quest'anno ha vinto una tappa al giro e una tappa alla Uelta, quindi un corridore così giovane e così forte che va in un team professional fa capire che sotto sotto c'è un progetto interessante, anche perché ha firmato un contratto triennale, così come Matteo Trentin, quindi un corridore come Trentin, campione europeo, vice campione del mondo, che ha vinto una tappa al giro, tre tappa al Tour de France, quattro tappa alla Uelta, due Parigi Tour e tantissimi altri piazzamenti, un corridore del genere va in una squadra professional. E attenzione perché se Trentin non sarà più fortissimo, non sarà un campione, ma è ancora competitivo, l'abbiamo visto all'ultimo mondiale, prima che si stendesse sulle transenne, comunque era ancora lì nel gruppo di testa con i migliori, quindi Trentin e Dainese. Poi, non finisce qui, hanno preso anche Michael Storer, uno scalatore preso dalla gruppa MyFTG, che in carriera ha già vinto due tappe alla Uelta, ha vinto la classifica scalatori, la maglia Pua della Uelta, ha vinto due volte il Tour de Lane, anche qui non stiamo parlando di un campione, però per una squadra professional è un corridore importante, così come è importante Mike Roffer, anche questo preso dal team DSM, anche lui un velocista come Dainese, che quest'anno ha vinto anche lui delle corse, ricordo inizio stagione che ha vinto la Cadelevance Road Race, quindi stiamo parlando di corridori importanti, poi ne hanno presi anche altri giovani interessanti, tipo Florian Stork, 7-8 acquisti hanno fatto, non so se ne faranno altri da qui a fine stagione, però qualora saltasse la quick step, chissà potrebbero prendere dei corridori che in qualche modo si trovano senza contratto e rinforzare ulteriormente la squadra. Ora, hanno preso i corridori, però come ben sapete un grande team per creare una grande squadra, non bastano solo i corridori, ma serve anche uno staff tecnico importante, serve qualcuno che durante la corsa possa guidare questi corridori, perché penso che in molti di voi già lo sapranno, i corridori usano le radioline, quindi nelle corse sono in qualche modo guidati da un direttore sportivo, quindi per creare una grande squadra serve anche un grande direttore sportivo e infatti hanno preso come direttore sportivo Matteo Tosatto, che è stato in questi anni DS del Team Ineos, che in passato si chiamava Team Sky ed è da tantissimi anni che il direttore sportivo è in ammiraglia col Team Ineos. Tosatto era nell'ammiraglia dell'allora Team Sky quando Froome vinse il Giro d'Italia, quindi ha guidato dall'ammiraglia Froome alla vittoria del Giro d'Italia, poi ha guidato anche Gogenhardt alla vittoria del Giro d'Italia 2020, quindi era in ammiraglia anche a quel Giro d'Italia, era in ammiraglia al Giro d'Italia vinto da Bernal, anche quest'anno era in ammiraglia al Giro d'Italia quasi vinto da Geraint Thomas, quindi stiamo parlando di un direttore sportivo che ha una grandissima esperienza, è stato il direttore sportivo di una delle squadre più forti al mondo che fino a qualche anno fa era la squadra più forte al mondo, quindi la Tudor non si è limitata a mettere sotto contratto dei corridori forti ma ha rinforzato anche lo staff tecnico prendendo un direttore sportivo di tutto rispetto, uno dei migliori presenti sulla piazza. Ora la Tudor non dispone solo evidentemente di un grande budget perché per mettere sotto contratto questi corridori un direttore sportivo di questo calibro è evidente che hai un ottimo budget, un budget nettamente superiore alle professional italiane, dispiace dirlo però è la realtà dei fatti. La Eolo, la Bardiani e la Coratec hanno un budget ridicolo se confrontato a quello della Tudor e attenzione io non voglio assolutamente denigrare la Eolo, la Coratec e la Bardiani perché fanno i salti mortali col poco budget che hanno perché purtroppo in Italia non riescono a trovare sponsor e non è assolutamente colpa loro, non è colpa loro purtroppo qui in Italia lo sport se non è calcio non frega niente a nessuno. Quindi dicevo la Tudor ha un ottimo budget ma può fare valere anche il peso del suo sponsor e come può farlo valere? Vi faccio notare questa piccola chicca. Quest'anno la Tudor al Giro d'Italia 2023 è stata official timekeeper del Giro, cioè il cronometrista, il cronometro ufficiale del Giro d'Italia. Quindi c'è stata una partnership, una sorta di collaborazione con il Giro d'Italia e con RCS che è l'organizzatore del Giro. E quindi questa è una collaborazione importante. Ora questa partnership è una sorta di indizio per il prossimo Giro d'Italia. collaborazione con il Giro, non so se ci sarà anche il prossimo anno. Squadra che fa investimenti importanti e si rinforza. Squadra che prende dei corridori di punta italiani perché Deinese è uno dei corridori più importanti in questo momento del ciclismo italiano, uno dei velocisti più promettenti. Così come Trentin che quando ci sono gli europei mondiali è sempre il capitano o uno dei nostri capitani. Quindi questi sono due indizi importanti. Collaborazione con il Giro d'Italia, corridori italiani presi e messi in squadra e questo vuol dire che probabilmente la Tudor riceverà la wildcard per il Giro d'Italia, l'invito per il Giro d'Italia. Ci sono quattro inviti per le squadre professional. Quest'anno sono state invitate la Israel e le tre professional italiane, quindi Corratec, Bardiani e Eolo. Io mi sbilancio vedendo questa collaborazione che c'è stata e non so se ci sarà ancora. Vedendo anche gli acquisti, ovvero hanno preso dei corridori italiani, io qui mi sbilancio e dico che la Tudor sarà una delle quattro squadre professional che verrà invitata al prossimo Giro d'Italia. Ed attenzione, è una wildcard più che meritata perché è una squadra professional che si presenta con corridori come Deines, Trentin, Storer, Mayroffer e come direttore sportivo Tosatto. Beh, è una squadra che merita assolutamente l'invito, merita assolutamente di partecipare al Giro d'Italia e non me ne vogliano le professional italiane, ma qui siamo ad un altro livello. Bene, siamo giunti al termine di questo video in cui vi ho raccontato questa piccola chicca su questa squadra emergente, una squadra che ha un progetto importante. Io vi invito a dire la vostra nei commenti cosa ne pensate di questo team e magari rispondiamo, rispondete nei commenti ad una domanda perché in Italia non siamo più in grado di creare, non dico una squadra world tour, ma neanche una professional importante che possa in qualche modo portare nel suo team corridori importanti così come ha fatto la Tudor. Io vi lascio con questa domanda e vi saluto. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!